Buongiorno amici di Marcos Box, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi è un breve flash per commentare la notizia pubblicata ieri sul sito di Canonical. Come ben sapete Canonical si è gettata nel mondo della telefonia dei tablet e smartphone con una sua versione di Ubuntu dedicata appunto a questi dispositivi, chiamata Ubuntu Touch. riconosciuta anche come Ubuntu Phone OS, come era stata ribattezzata all'inizio da parte degli appassionati. I lavori per lo sviluppo di questa nuova versione di Ubuntu dedicata ai dispositivi mobili proseguono aggramente, tant'è vero che come alcuni ben sapranno gli aggiornamenti per l'ultima versione di Ubuntu, la 13.04, stentano un po' ad arrivare perché i sviluppatori principali si stanno dedicando maggiormente a questa nuova piattaforma perché Canonical ha l'intenzione di rilasciarla entro quest'anno e inizio l'anno prossimo. Dicevo, Canonical ieri ha pubblicato una lista dei carrier che supportano Ubuntu Touch e che per primi potranno introdurre nei rispettivi mercati i dispositivi con Ubuntu. Tra i carrier, due saltano all'occhio, due sono i nomi che possono far felici noi pinguini, noi che attendiamo questo sistema. Il primo è Telecom Italia. Telecom Italia, il nostro carrier nazionale, quello più storico, ha deciso di supportare Ubuntu Touch. Già in verità supporta lo sviluppo di Firefox OS ed è quasi certo che verranno rilasciati degli smartphone con questo sistema operativo mobile anche da Telecom. Dunque Telecom continua in questa sua rincorsa verso sistemi operativi alternativi per il device. Probabilmente lo fa perché spera nelle possibilità offerte dalla personalizzazione di questi due sistemi operativi mobile per proporre delle soluzioni per clienti aziendali e cose del genere. Secondo me è questo il target che ha in mente Telecom. Beh, fa piacere vedere che Telecom si interessi a questa piattaforma. Fa soccolo un pochino a molti di noi perché, come ben sappiamo, Telecom con il mondo Linux ha sempre avuto qualche problema. Leggete poi i commenti su Google Plus per capire a che problemi mi riferisco. Oltretutto Telecom ha questa barbara usanza di personalizzare i propri dispositivi pesantemente. Prendete uno smartphone Android marchiato Team e vedete che cavo vi trovate da sopra. Speriamo che Telecom non faccia di questi errori, non faccia di queste porcherie, che supporti in maniera intelligente questa Ubuntu Touch. L'altro nome, dicevamo, che fa parte di questa lista è LG. LG che compare attraverso il suo carrier coreano, appunto l'operatore di telefonia mobile coreano che è controllato da LG. Questo che cosa fa presagire? Fa presagire che molto probabilmente le parole di Mark circa accordi con produttori hardware del caipro di LG e Samsung e altri si erano andati a buon punto. Perché? Perché dico questo? Perché se LG sponsorizza tramite il suo operatore mobile, si ipotizza che, si spera più che altro, che LG sia interessata anche a commercializzare un device con Ubuntu Touch, ovvero più device con Ubuntu Touch. Questo è nella speranza di molti fra i quali sono sottoscritto. Perché comunque avere un marchio come LG è diverso da avere il primo produttore cinese sconosciuto che presenta un device senza avere un design almeno decente o supporto hardware, supporto di garanzia decente nell'altra parte del mondo. Speriamo, speriamo, vediamo. Come si dice, se sono cose fioriranno. Incrociamo le dita. Questa è l'unica cosa che possiamo fare noi. Bene, voi che cosa ne pensate della scelta da parte di Telecom Italia di gettarsi a sponsorizzare Ubuntu Touch? E cosa ne pensate di LG? Ce lo vedete come produttore di smartphone con Ubuntu Touch? O magari questa storia della presenza di LG tramite il suo operatore mobile? Pensate che sia da vedere in maniera distaccata? Cioè non pensate che LG sia interessata anche a produrre un device? Quindi sia soltanto l'ennesimo carrier telefonico disposto a sponsorizzare Ubuntu Touch? Bene, a voi commenti, a voi le condivisioni. Condividete, mi raccomando, condividete. Un saluto, ci vediamo alla prossima. Lunga vita e prosperità a tutti. Ciao ciao!